Il direttore generale Pinarello Si aggiudica il premio Fuga Pinarello, un corridore italiano difende i colori dell'Androni giocato in Sidermac gli applausi sono per Marco Frapporti Il corridore Lombardo dell'Androni giocato in Sidermac viene premiato da Luciano Fusarfoli Il direttore generale Pinarello Si prepariamo alla tronchisi anche in questo caso Il citore del premio Fuga Pinarello Un corridore italiano per Androni giocato in Sidermac Gli applausi per Marco Frapporti Gli applausi per il premio Fuga Pinarello Si provate sempre Non si è giusto più nella filantata Non si è giusto più nella filantata Grazie a tutti